Novembre con il segno meno per le vendite al dettaglio. Secondo le stime dell'Istat il calo è stato dello 0,4 per cento in valore rispetto al mese precedente. A incidere soprattutto la flessione dei beni alimentari mentre le altre categorie di consumo sono stazionarie. Nel trimestre settembre novembre 2021 aumentano dell'1,2 per cento mentre su base annua a novembre l'incremento è del 12,5 per cento. Rispetto a novembre 2020 il valore delle vendite al dettaglio cresce dalla grande distribuzione ai piccoli negozi ma anche per il commercio elettronico. Il dato sulle vendite del mese di novembre conferma le preoccupazioni di Confcommercio sulle difficoltà di arrivare a una reale crescita dei consumi per l'associazione di categoria, le incertezze che gravano sulla ripresa e l'emergere del problema inflazione stanno spingendo verso atteggiamenti molto prudenti. Una situazione che allontana il momento in cui si tornerà ai livelli di consumo del 2019. Secondo Confcommercio si va verso una revisione al ribasso delle stime di crescita di PIL e consumi per il 2022. Rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid, ammonta a quasi 36 miliardi l'extracosto che le imprese italiane sosterranno nel 2022 a causa dell'aumento del prezzo delle tariffe elettriche. Nel giro di tre anni, infatti, il costo della bolletta della luce in capo alle aziende è pressoché raddoppiato, un incremento che, sommato al rincaro del gas, costringerà molte attività, almeno temporaneamente, a chiudere gli impianti produttivi. I calcoli sono stati effettuati dall'ufficio studi della CGA che, per l'anno in corso, ha ipotizzato un consumo complessivo di energia elettrica delle imprese pari a quello registrato nel 2019. A livello territoriale, il rincaro maggiore graverà sulle imprese di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. I settori più colpiti saranno, almeno in linea teorica, quelli che registrano i consumi di energia elettrica più importanti, metallurgia e commercio. Un appello al ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli per difendere in Europa al settore vitivinicolo italiano, a lanciarlo e agri insieme, il coordinamento delle associazioni di categoria dell'agricoltura. L'appello esprime preoccupazione per la decisione della Commissione europea relativa al programma di lavoro 2022 sulla promozione dei prodotti agricoli, facendo particolare riferimento proprio al settore vitivinicolo. Nell'ambito dei criteri per la valutazione dei progetti di promozione, è stato inserito l'allineamento con gli obiettivi di alcune recenti comunicazioni della Commissione, tra cui il Piano europeo della lotta ai tumori, che è una semplice comunicazione e non ancora applicata a livello legislativo. Il Parlamento europeo, nella sua relazione del piano che dovrà essere votata dall'Assemblea plenaria, non fa distinzione tra consumo moderato di alcol e abuso in merito alle conseguenze sulla salute, e specifica che non esiste una soglia minima al di sotto della quale il consumo sia sicuro. Questa tesi, secondo Agri Insieme, è poco equilibrata e potrebbe disorientare i consumatori, perché metterebbe in discussione il consumo di vino, oltre che l'abuso, senza considerare poi il danno di immagine per un comparto determinante dell'economia italiana, quello vitivinicolo, che dà lavoro a oltre un milione di addetti. Nel 2022, sul fronte della tassazione, una novità per quanto riguarda le aliquote fiscali. Saranno infatti 4, non più 5, 23, 25, 35 e 43. È stata soppressa la fascia del 41%, quella che riguarda il 35% arriverà fino a 50 mila euro e non più fino a 75 mila euro. Quindi tante novità dal fisco, tra le altre cose sono state variate anche le detrazioni fiscali.